Esce da Gerusalemme e porta gli apostoli verso Betania per condividere con loro l'ultimo atto della sua presenza sulla terra, l'ascensione. Ma quel momento cambia tutto nel cuore dei discepoli. Papa Francesco lo ha sottolineato nella riflessione prima del Regino a Cieli, nel giorno in cui la Chiesa ricorda con solennità l'evento del ritorno di Cristo al cielo. Prima di separarsi dai suoi amici, ha ricordato Francesco, Gesù aveva detto loro che sarebbero stati testimoni della sua morte e risurrezione. La stessa testimonianza ha osservato il Papa che ogni domenica dovrebbe uscire dalle nostre chiese per entrare durante la settimana nelle case e in tutti gli ambienti della vita. Entrare ha affermato con la stessa gioia con cui, racconta il Vangelo, i discepoli fecero ritorno dopo l'ascensione a Gerusalemme, non più ora la città del tradimento di Giuda e del rinnegamento di Pietro. Da quel giorno per gli apostoli e per ogni disipolo di Cristo è stato possibile abitare a Gerusalemme, in tutte le città del mondo, anche in quelle più travagliate dalla ingiustizia e della violenza. Perché sopra ogni città c'è lo stesso cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con speranza. Gesù, Dio è uomo, vero, col suo corpo di uomo è in cielo e questa è la nostra speranza. È l'ancola nostra che è là e noi siamo saldi in questa speranza se guardiamo il cielo. Dopo la recita della Regina Cieli, il Papa ha pregato per le mamme nel giorno della loro festa, salutato i partecipanti alla Marcia per la Vita e in occasione della giornata mondiale delle comunicazioni sociali ha auspicato che nella Chiesa i media abbiano uno stile che unisca la verità alla misericordia.